Beh, i Beatles hanno fatto la storia della musica. Bene, c'era un signore che i Beatles chiamavano The Teacher, il maestro. Quello che ha insegnato ai Beatles tutto quello che poi hanno saputo così ben diffondere nel mondo. Perché quando i Beatles erano quattro ragazzini che suonavano nei locali malfamati di Hamburgo, erano lì a accompagnare lui, il nostro protagonista, Tony Sheridan, quello che i Beatles chiamavano il maestro.